c'è l'ascensore anche lo so il piano più basso del mondo ragazzi guardate la scala mobile più corta del mondo wow l'ascensore ti mangi pure il piano è ovvio si vabbè l'ascensore è ovvio fa anche il dislivello ma le scale mobili che fanno il dislivello mi sembrano improbabili cioè guarda te che roba la scala mobile più corta del mondo grazie a tutti